Abbiamo sempre detto con noi le riprese di Acamedia, la conclusione, adesso attendiamo poi la conclusione di tutti, tempo di un leggero ristoro o qualcosa per quello che sarà il gran finale. Gruppo sportivo Free Time, team MTB Castellano Veneto, la pista permanente, per questa giornata di sport in occasione proprio della festa dello sport, Castellano Veneto, la nostra società, la nostra KMS, vedete, il sorriso non manca. Luca, Cristian, certo che la grinta e l'impegno c'è, bravo anche il nostro Maria Simone, Grazie per la visione!